Cambiamo argomento, lutto nel mondo del rugby per la morte a Genova di Marco Bollesan, scomparso all'età di 79 anni, a poche ore dalla morte di Massimo Cutitta, un altro grande campione della palla ovale italiana. Bollesan era nato a Chioggia, ma era cresciuto nel capoluogo Ligure, Flanker, nelle fila del Cus di Genova. Era stato capitano della nazionale, nonché tra i rugbisti più famosi di sempre ad aver vestito la maglia azzurra. 47 i suoi caps internazionali, 34 dei quali da capitano. Marco Bollesan aveva anche rivestito il ruolo di commissario tecnico alla prima Rugby World Cup del 1987, oltre che di team manager nelle rassegne iridate del 2003-2007. In carriera aveva avuto il privilegio di capitanare l'Italia in occasione dello storico tour sudafricano del 1973, uno dei punti di svolta nella storia della palla ovale nostrana e nello stesso anno era stato tra i soci fondatori delle Zebre. E continuiamo tra poco con la pagina sportiva, battendo per 1-0 la Pro Sesto e approfittando del mezzo scivolone casalingo della capolista Comola, Alessandria Calcio si è portata a una sola lunghezza dalla vetta della classifica nel campionato di Serie C. In Serie D invece vittoria per il Dertona, mentre i nerostellati del Casale sono tornati da Sestri Levante a mani vuote. Solo un punto per l'Aqui in eccellenza contro l'Olmo. Maggiori particolari sulla giornata calcistica tra poco da Fabrizio Mattana. Grazie per averci seguito, con l'informazione torniamo più tardi.